Noi abbiamo sempre affrontato con tonicità il tema degli eventi catastrofali, non ultimo quello che stiamo affrontando del tornado. Dico che dovremmo preventivare la creazione di un fondo anticatastrofi, un fondo catastrofale Veneto in maniera tale che diventi un fondo mutualistico e aiuti chi ha difficoltà. Penso di tantissimi cittadini che chiedono di poter dare un aiuto, questo aiuto lo potremo mettere a regime annualmente. Si tratterà di capire le formule ma non saranno nuove tasse e nuove imposizioni. Un fondo regionale d'emergenza contro le calamità. Per ora solo un'idea nella mente del governatore Luca Zaia che andrà sviluppata nei prossimi mesi per poter fornire risposte immediate da parte della regione Veneto a tragedie come quella della riviera del Brenta. Ci stiamo lavorando e l'importante è che abbiamo già posto la questione. Avendo posto la questione troveremo anche una soluzione. Certo è che non vogliamo fare sconti a Roma che ha il Fondo Nazionale per la Protezione Civile che dovrà essere quello che paga i danni ai nostri cittadini. I danni del tornado superano abbondantemente i 100 milioni di euro, riporta il governatore. Il Fondo Nazionale della Protezione Civile deve essere presente in Veneto per aiutare famiglie e imprese. Noi l'abbiamo già fatto con 6 milioni di euro di fatto e equa proporzione vuole che il governo ci metta molto molto di più.